Io ho fatto parecchie, qualche centinaia di simultanei nella mia carriera, però non l'avevo mai fatto in un posto così speciale come quello di Orso Marzo. Il Parco del Pollino è qualcosa di meraviglioso. È ovvio, è stato un po' difficile perché era una giornata dove anche sul parco faceva molto caldo, però i ragazzi comunque hanno giocato per più di tre ore. Io sicuramente ho fatto qualche chilometro, ma devo essere sincero, è stata veramente un'esperienza grandiosa. Il parco è fantastico, lo consiglio a tutti di andarlo a vedere.